Calcio.basket S'annata del basket Rimini, ma non solo, parleremo delle realtà, delle serie inferiori, a partire dalla Cigol con San Marino, la Cisilver con Sant'Arcangelo, l'indici sono Bellaria, e qui parliamo già di un ospite che abbiamo graditissimo qui stasera, Bellaria e Riccione, poi perché no, della promozione del basket femminile con Lepi, della pallacanestro giovanile, tanta carne al fuoco, promettiamo naturalmente il massimo dell'onestà intellettuale, noi qui siamo tifosi della pallacanestro romagnolo, ma non mancheranno critiche qualora se ne dovesse presentate. L'occasione per tutte le squadre che troveremo ad analizzare. Qui con me c'è Federica, ciao Federica. I nostri ospiti, subito vado a presentarli, Daniele Bacchi. Buonasera. Buonasera Daniele. Andrea Sipala, un volto nuovo del basket Rimini. Buonasera. Buonasera a te. Alessandro Ceccoli, e questa è la carambata di cui parlavamo nella parte del Sant'Arcangelo, forse tu non ci hai seguito, ma nell'ultima parte del Sant'Arcangelo parlavamo di una carambata, naturalmente. Mi sembra di essere stato riesumato, perché dopo tanti anni sono stato dal sarcofago e sono tornato qua. Ero dietro lì, sono tanti anni lì di dietro. Io credo che gli appassionati della pallacanestro romagnola gradiscono la tua presenza, gradiranno sicuramente la presenza del nostro quarto ospite di serata. Questa inquadratura non c'è neanche bisogno che dica chi è Germán Scarone. Buonasera. Buonasera a Germán, a cui naturalmente chiederemo qualcosa di basket Rimini, ma anche del bell'aria basket, perché quest'anno è una squadra che può disporre tra le sue fila, oltre che del tasso di Tassinari e di Germán Scarone, un all-star della Serie D. Insomma, Germán ha già fatto vedere durante l'anno, durante le prime partite di Coppa, di poter mettere insieme già bottini importanti. Prima partita del basket Rimini in questa stagione, chiediamo subito un'opinione ai nostri ospiti per mettere le cose in chiaro. Finita 91-35, ho dovuto guardare perché il punteggio è talmente ampio, lo scarto è talmente ampio, 56 punti di margine, che effettivamente non succede spesso. C'è un inghippo però, c'è un inghippo perché l'Ecco non ha tesserato in tempo i suoi giocatori senior. Il limite orario e di giorno per il tesseramento era quello di venerdì scorso, alle ore 11 credo Daniele, era quello di venerdì scorso, l'Ecco non li ha tesserati. Sui motivi per i quali non li abbia tesserati potremmo avere delle opinioni qui, fatto sta che non c'erano Daniele ed è successo quello che è successo, Rimini ha avuto vita a faccia. Esattamente. Io stamattina ho studiato perché… Le famose Doha, le famose Doha che tutti gli addenti ai lavori dovrebbero sapere che evidentemente in questo caso è successo. che è stata emessa nel maggio scorso, dice chiaramente che bisogna tesserare i giocatori entro le ore 11 del venerdì precedente alla prima giornata di campionato. L'Ecco non sa cosa sia accaduto, se abbiano sbagliato loro o se sia un problema legato alla società che raccoglie e trasmette le informazioni. Ti posso interrompere solo per questo. È vero che il sistema FIP online, io lo uso da allenatore per questioni di pallacanestro giovanile, è vero che il sistema FIP online a volte magari ha dei problemi tecnici, però qua parliamo, e qui ritorno da te Daniele, di basket senior e di non tesserare una marea di giocatori. Peraltro se vogliamo parlare male di applicazioni informatiche possiamo anche ricordare che anche il sito di Lega Pallacanestro è davvero imbarazzante perché non fornisce dati attendibili. Purtroppo qualcosa è andato storto, investigheranno, ma al di là del fatto che investigheranno il risultato è quello del campo. Bisogna dire che loro erano l'under 20, bisogna anche sottolineare che noi avevamo un under 20 molto più buona della loro, perché se è vero che effettivamente noi abbiamo fatto il primo gap con Andrea e i senior, è anche vero che poiché i nostri ragazzini hanno allargato il gap e sono arrivati a portare a casa un ben 56 punti di scarto che sono molto importanti, perché poi alla fine, io sono quello dei numeri, sulla ruota del Flaminio sono usciti l'1, il 2, il 3 e il 4, l'1 è il primo posto in classifica, il 2 sono i punti che abbiamo messo in casa, il 3 è molto importante, è il terzo anno consecutivo che vinciamo la prima e non è cosa da poco. E il 4 potenzialmente potrebbero essere i punti virtuali dal momento che, lascia pure che loro siano bravissimi, però andare a perdere di 57 all'eco nel ritorno potrebbe essere anche comunque complicato e visto che ci sono ancora 29 partite, un arrivo alla pari potrebbe valere. Quello di cui sai bene anche tu, perché anche tu hai letto le DOA, Daniele, poi chiedo un'opinione anche agli altri nostri ospiti, è che in teoria, tra molte virgolette, da adesso in poi si può tesserare un senior e un altro e poi bisogna aspettare marzo. Esatto. Però è tutto da vedere se questo succederà o se l'eco riuscirà a scusarsi o a metterla insieme in maniera molto italiana. Andrea, quando l'avete saputo? Ve ne siete accorti al palazzetto? Noi ci è stato comunicato la domenica stessa poco prima della partita, ovvero già il mattino c'erano delle voci che giravano, però non erano ancora sicure al 100%, però noi non ci siamo fatti molte domande sul perché o sul per come, noi siamo scesi in campo come dovevamo fare. E' anche una cosa che, insomma, in settimana vi preparate, d'accordo che è la prima giornata ed è difficile fare scouting preciso sugli avversari, non si hanno fiammati, però qualcosa sugli avversari si prepara. E' anche un allenamento andato male, nel senso, chiaramente siamo tutti contenti dei due punti, però il test alla fine cosa ha detto, secondo te? Allora, noi abbiamo passato una settimana a preparare la partita e abbiamo passato una settimana a tosta perché comunque il roster di Lecco fino a domenica era un roster molto valido, quindi abbiamo preparato la partita al meglio e secondo me non è stato andato tutto perso, poi comunque ci siamo andati molto bene, abbiamo lavorato sempre sulle nostre cose e le cose delle avversari. di questa partita salvo molto la difesa perché comunque abbiamo dato una nostra impronta perché comunque la nostra arma migliore è la difesa, noi dobbiamo sempre puntare su quello per far sì che poi l'attacco sia più fluido, si giochi con più tranquillità in attacco. Germano, ti è mai capitato una cosa del genere, insomma, qualche occasione nella tua carriera che all'ultimo momento arrivi al palazzetto e ti trovi un under contro? No, no, questa roba qua no, perché anche l'anno che c'era la Lega 2 di Napoli non abbiamo mai giocato contro, però di prendere 50 punti sì, e non è bellissimo anche se ne hai 18-19 di anni. Ma comunque sono stati bravi i ragazzi di Rimini che nonostante questa mancanza da parte di Lecco sono riusciti mentalmente a continuare a giocare la loro palazzetto e ovvio che dopo il divario si è allargato molto di più, però sono stati bravi a non mollare, quindi questo vuol dire la giusta mentalità di quello che stavano preparando fino a quel giorno lì e quindi continueranno, penso e spero, di giocare con la stessa intensità, nonostante, capito, davanti si ritrovi o la prima, la seconda, la terza o una squadra con gli under 20 come quella di Lecco. Esattamente. Alessandro, ti chiedo due cose. Una, una previsione che se magari sia è presto e poi vedremo cosa succederà su questa, da adesso in poi con Lecco, se non rischi di fassare il campionato, e poi cosa hai visto un primo bozzo della stagione dei Krebs nella partita? Beh, io sono convinto che proveranno fino all'ultimo a metterla un pochettino a posto questa cosa perché probabilmente, cioè probabilmente Lecco cercherà di dimostrare che c'è stato un qualche errore che non so in che modo riuscirà a determinare, chiaramente è una cosa stranissima e complicatissima perché a memoria mia, a parte qualche squadra che non pagava gli stipendi storicamente per cui sono state praticamente sciolte, cose del genere di mancato tesseramento è proprio un errore devastante, no? Cioè è la prima cosa che devi fare a tesserare i giocatori, quindi devi sapere qual è l'orario. È vero che una volta era fino a mezzogiorno, però se ti cambi l'orario, ti arrivano a circolare, il 27 di maggio, a maggio ti arriva una comunicazione dove ti vengono comunicati nuovi dati, la prima cosa che devi fare è leggerla, insomma, chiaramente la famosa comunicazione. Poi ho visto una squadra che si è applicata, una squadra giovane, è una squadra che nonostante i due esterni titolari abbiano chiuso con zero punti, Busat e Tognato, i ragazzi si sono sbattuti perché hanno lavorato, ci sono stati pochi minuti per Fogliera giustamente perché così ha riposato e ho visto una squadra che si è data da fare contro quasi una pari categoria perché alla fine più o meno l'età le comparavi, perché la squadra è molto giovane, se c'è qualche under che ha appena chiuso il ciclo dell'under è poco più grande e sono andati da fare, ma su questo credo che non ci sia motivo di dubitare perché io credo di conoscere abbastanza bene il coach Andrea Maghelli che è uno che lavora, è abituato a lavorare con il materiale che gli dà la società, è uno che chiede molto ai giocatori, li fa lavorare intensamente, per cui l'applicazione, la determinazione e l'approccio alla partita sicuramente non mancheranno mai. Poi chiaramente bisogna vedere che aversario trovi, quando trovi un under 20 come te o più o meno, in questo caso un pochettino più debole la batti, quando troverai una squadra un pochettino più forte potrebbero venire fuori i problemi che si sono visti in prestagione, non problemi a livello di applicazione ma problemi a livello di magari manca qualcosina. Certamente. Ci sono messaggi da casa Federica? Domanda German. Bellaria, Sant'Arcangelo, San Marino, Riccione, Rimini, tutte realtà distinte che da anni fanno campionati spesso e volentieri privi di obiettivi importanti. Cosa si può fare per unire le forze? Domanda da poco, insomma, no? Sì, infatti no. Tutto dipende, non penso che dipenda solo dalle società, da come costruiscono le squadre, bensì anche dalla voglia, dalla determinazione che hanno i nostri giovani, sia a Bellaria che nelle altre realtà, a venirne fuori, a diventare più bravi, quindi avere la fame, la voglia innanzitutto di migliorare loro stessi, di diventare una squadra forte e di avere risultati diversi da quelli che ci sono, perché dopo dicono, eh sì vai, ma si fanno delle squadre tanto per. Io vedo, per esempio, quest'anno è Bellaria, c'è una squadra, c'è un roster interessante, ecco, con tantissimi giovani, ovvio non faccio parte di questi. C'è anche il tasso. Però, comunque, ecco, siamo due pilastri importanti, assieme a Pulverenti, tre ragazzi di esperienza, e quindi, ecco, cercheremo di far crescere questi giovani con la voglia, con la volontà, ecco, di puntare in alto. Noi vogliamo puntare in alto, ma io sono molto competitivo e quindi vorrei vincere questo campionato, ma è normale, non me ne nascondo. Sarà difficilissimo, però almeno ci si prova. E magari in altre realtà, come San Marino, come hai detto te, e in altre regioni, magari ci sono le possibilità, volendo, è che molte volte non dipende soltanto, dico, dalla situazione di tesseramenti, ma dalla voglia, dalla volentà e dalla determinazione che hanno i ragazzi per voler questa vittoria, invece che dire, ah, ma tanto sono in Serie C, tanto sono in Serie D, e quindi penso più allo studio che al lavoro, è come se non ci fosse la possibilità di fare una e l'altra. Io su questo tema, poi ritorneremo a parlare di Bellaria, io prometto ai telespettatori che una puntata monografica la dedicheremo a questo, cioè al parlare del basket della provincia, non solo basket rimini, ma più questioni societarie rispetto al campo. Adesso però siamo qua al campo, ci piace parlare di basket, ci piace vedere basket, credo che Daniele su questo tema sia d'accordo con me, ne abbiamo anche discusso durante l'estate amichevolmente. La partita di ieri, Andrea, Tiberti 19, 15 rimbalzi, Signorini 19 punti, Andrea Sipala 17, poi ci sono Moffa a 10 punti per quella in doppia cifra. Una buona partita da parte tua, è chiaro che, l'abbiamo detto, si è vista la buona aggressività da parte vostra, magari non farà testo in futuro, però quello che avete potuto far bene, avete fatto bene. Dal tuo punto di vista strettamente personale, visto che di squadra hai già accennato qualcosa, come ti sei visto, come è stato il tuo debut? Guarda, devo dire molto positivo, mi aspettavo un clima molto più pesante, invece sono stato molto sereno, ho giocato molto tranquillo, e in campo metto sempre quello che ho di mio, ovvero la voglia di combattere su ogni pallone, la voglia di far bene a livello di squadra, quindi trovare sempre l'uomo libero. Per quanto mi riguarda, ieri le percentuali sono andate anche molto bene, quindi sono felice di questo, sto lavorando su questo, perché comunque volevo mantenere una continuità per quanto riguarda delle percentuali, e dobbiamo continuare così. È un mese che lavoriamo molto su questo sistema di gioco, e a quanto pare ieri si sono visti dei buoni risultati, adesso contro Vicenza vedremo cosa succederà, però sono ottimista. Daniele Alessandro, a chi vuole rispondere per primo, naturalmente non faccio precauzioni, un commento proprio sulla prova di Sipala, naturalmente abbiamo già visto qualcosa, sulla squadra capiremo magari più avanti cosa potrà fare, sui giocatori singoli qualche qualità cominciamo a intravederlo, no? Daniele o Alessandro che vuole? Io dal mio punto di vista ho visto che i ragazzi si sono applicati tutti in maniera abbastanza determinata, quindi voglio dire che lui ha giocato un'ottima partita, come tanti altri suoi compagni. Ripeto, secondo me da questa partita va presa la determinazione, l'applicazione, l'avere trasmesso contro una squadra che non era quella aspettata, comunque aver trasmesso sul campo tutto quello che si poteva per poter fare una buona partita, che io penso siano poi anche i dettami che arrivano dal coach. Per cui questa partita va presa sotto l'aspetto positivo per tutto quello che è stato l'applicazione e il trovarsi, il lavorare, lo sbattersi in difesa e poi il futuro ci dirà che cosa, ripeto, se manca qualcosa, cosa manca e si potrà andare a lavorare su queste cose qua. Per il momento io ho visto dei ragazzi che ci sono dati da fare molto molto intensamente. Daniele hai parlato della squadra, andiamo a mettere la lente magari anche sui singoli, su si parla stesso che qui ma anche sugli altri. Il primo da prendere in considerazione è Andrea Maghelli. Lui ha allenato la partita dall'inizio alla fine come se fossero punto a punto. E questo è stato l'aspetto più positivo perché effettivamente è riuscito a ottenere da loro una buona intensità per quasi 40 minuti. C'è stato un momento di calo ma diciamo che non c'erano delle grandi possibilità per i ragazzini di Lecco. Chi si è distinto molto bene secondo me è stato Tiberti non tanto per il fatto che aveva uno strapotere nei confronti degli avversari ma quanto per la sua caratteristica fondamentale è sempre dove cade la palla. Non lo vedi mai dalla parte sbagliata e questa è una caratteristica fondamentale per un centro che dovrà avere inevitabilmente molti... Facciamo delle previsioni e non possiamo prescindere dalla doppia e doppia di Tiberti di medio durante l'anno. Facciamo delle previsioni facili anche. Facciamo delle previsioni facili. Gli altri ragazzi hanno giocato tutti comunque con intensità. Andre ha dimostrato fin dal primo giorno che è arrivato a Rimini che ha degli spigoli belli a guzzi e li sa utilizzare. Anche in questo caso si sono visti. Si è comportato anche molto bene come su ben quattro falli quindi anche l'aggressività non è mancata. Se vogliamo parlare della partita è difficile. Si possono eventualmente sottolineare alcune cose che non sono andate bene e Maghelli non ne ha fatta scappare neanche una se a quelli che erano con me sulle poltrone gialle l'hanno sentito bene gli strilli che arrivavano dall'altra parte del campo perché qualche pallone è finito in tribuna e allora quelle cose lì ovviamente non avevano senso ma domenica prossima peseranno come dei mattoni perché se ieri non ci hanno misurato la pressione domenica prossima abbiamo chi ce la misurerà Ne parliamo Andiamo a vedere i risultati naturalmente tutte le squadre impareremo a conoscerle di settimana in settimana adesso è anche abbastanza complicato fare delle previsioni forse magari per il vertice sì ma per la media classifica un po' più complicato i risultati di questa giornata dicono che Padova ne ha datti quasi 30 a Palermo a domicilio Tigers for lì con Costa Volpino 85-61 poi c'è la Beccheri Piacenza a Valanga Sudesio oggi nato e Lugo 85-78 risultato della NTS che vince nettamente con con Lecco e poi un risultato che interessa ai Krebs cioè Basket 2000 a Reggio Emilia Tramarossa-Vicenza 56-60 e Vicenza ha fatto 60 punti con 6 giocatori tra i 7 e i 12 punti Andrea chiaramente questa volta sì avrete un po' di materiale in più per lavorare su Vicenza ci sarà il video ci sarà lo scouting però insomma cosa ti aspetti anche se è presto inizio settimana siamo lunedì insomma allora mi aspetto per quanto riguarda Vicenza inizieremo già da martedì a lavorarci sopra perché comunque hanno una una coppia di lunghi molto molto difficile molto bravi sono molto bravi sotto canestro quindi dobbiamo iniziare da lì e poi quello che è il roster comunque è una buona squadra magari domenica hanno avuto qualche qualche problema ma per quanto riguarda il risultato l'hanno portata a casa noi questa settimana lavoreremo sull'intero roster perché non è non è da meno quindi ne vedremo delle belle domenica veramente come ha detto ci misureranno la pressione ovvero non sarà una partita facile però noi andiamo lì con l'intento di vincerla come tutte le altre partite e quello è il nostro punto chiaramente lo spirito deve essere Alessandro magari domenica quando arrivate vi dicono che hanno avuto un'influenza collettiva ecco che già non ci dispiacerebbe non so perché l'abbiamo avuto anche noi non ci dispiacerebbe un virus non letale chiaramente insomma vediamo cosa si può fare basta anche da 3-4 ore 3-4 ore quel momento della partita può capitare chissà mai vediamo scendiamo di categoria per vedere cosa hanno fatto le squadre del nostro territorio in C-Gold C-Silver e D C-Gold c'è Samarino che ha perso in casa col Guelfo 62 a 72 una sconfitta che una partita strana una partita in cui Samarino era anche a meno 21 l'aveva recuperata e l'aveva andata sopra di due punti poi nel finale la proprietà di tiro e l'esperienza dei lunghi del Guelfo unita al fatto che un giocatore importante come Zannoni per Samarino non si è potuto entrare in campo negli ultimi minuti ha fatto sì che il Guelfo potesse sbancare molti eventi di Samarino è una partita vi chiedo questo entriamo in un tema molto particolare vi chiedo una battuta in cui sono viste alcune delle nuove regole di quest'anno al di là delle infrazioni di passi poi magari chi vorrà che vorrà esprimersi per primo German chiedo su questo si è vista anche la possibilità poi chiedo a Sipala del tecnico più antisportivo uguale ad espulsione iniziamo con con German sia sui sulla questione dei passi e anche sulla sulla questione di stare attenti quando si protesta tecnico perché è successo è successo anche a noi è successo a Pulverenti che è stato è stato fischiato un fallo tecnico e poi cercando di recuperare in partita ha fatto un fallo che è stato valutato intenzionale quindi diretta espulsione e via ci si deve abituare o insomma ah per forza come ci siamo abituati sempre ad ogni correzione diciamo così o nuove regole non sarà facile magari all'inizio però dopo un po' darà modo anche a noi giocatori di avere la capacità di sapere che la regola è quella e dovrebbe essere rispettata sempre e quindi adeguarsi alle nuove alle nuove ai nuovi fischi sui passi invece German sui passi ha il tuo parere da giocatore tecnico preferisco prendere e tirare così almeno non rischio Andrea l'amministrazione dei nuovi tecnici e centri sportivi ma soprattutto anche questa la questione di infrazione di passi che visivamente cominceremo a vedere magari col passare delle partite per adesso la partita di ieri non ha detto molto neanche in questo senso no è di sicuro una novità perché comunque adesso bisogna stare molto attenti perché prima erano due tecnici e due antri sportivi adesso è solo uno e uno quindi bisogna stare molto attenti soprattutto nei primi mesi perché magari l'arbitraggio sarà molto fiscale su questa cosa e dovremo stare attenti parlo noi giocatori in generale a andare a cercare proprio l'antisportivo perché ormai è diventato molto facile fischiare questo questo fallo per quanto riguarda il tecnico io per quanto mi riguarda ne darei a volontà nel senso ci sono tanti giocatori che parlano tanti giocatori che sono plateali a me questo questo modo non piace ecco quindi per quanto riguarda il tecnico sono a favore dell'antisportivo è molto difficile darlo cioè si è sempre sul dubbio se andava sulla palla se andava a cercare il braccio se voleva fermare l'azione quindi è molto più complicato ti aiuta però secondo me a controllare un pochettino più scende di categorie più magari c'è un atteggiamento un pochettino più forte spinta nei confronti degli arbitri per intimorirli quindi magari questo tipo di norme qui ti danno la possibilità di tenere un pochettino più sotto controllo la partita per me è più fastidioso il passi cioè finché lo fanno nella sala giochi della NBA è un discorso però mi sembra una cosa sarò antico ma adesso così sono passeggiate se le vedi in televisione che le fa Steve Carey che non le fa però se le fa anche lui è un discorso occhi per lui vederle anche nei campionati europei italiani così non mi piace per niente non posso che concordare con te scendiamo ancora di categoria in C Silver debutto con sconfitta di Sant'Arcanzo che perde a Danzola 72 a 67 invece in Serie D abbiamo come squadra del territorio parliamo di provincia di Rimini naturalmente perché se allarghiamo il tiro ci sono anche diverse squadre del Cesenate del Forlivese provincia di Rimini c'è Lariccione di Ferro che ha vinto a Valanga fuori con 26 di Brattoli Bellaria German non ce l'avete fatta nella partita del primo turno di campionato avete subito una sconfitta in casa del Basket Village 66 a 59 c'eri tu mancava Tasso non eravate nel roster completo insomma sì sì infatti Tasso per noi è un punto di riferimento importantissimo all'interno della squadra in più le prime due partite pulverenti ancora non c'era quindi era rientrato lui alla prima partita che si giocava insieme con lui senza Tassinari un po' gli equilibri sono un po' cambiati però comunque diciamo così abbiamo un po' giocato in maniera frenetica forse avendo anche tanti giovani magari la prima partita fuori casa le prime due le avevamo fatto in casa nostra quindi ecco la prima partita fuori casa ci è mancato quella lucidità e quelle percentuali che magari ci troviamo meglio farli in casa io anche per prima addirittura ho fatto il 50% ai tiri liberi che non ne succedeva forse non è mai successo e quindi forse anche questo non ha aiutato anche i miei compagni più giovani a prendere fiducia soprattutto quando si gioca fuori casa è molto più difficile quindi non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che comunque abbiamo ancora tanti margini di miglioramento quindi sono sereno e la prima di campionato può succedere tra l'altro il qui presente ragazzino Germano Scarone ha messo già 25 nel primo turno di Trofeo Marchetti 37 nella seconda partita avete vinto anche delle partite che contavano perché contro avversari comunque di grande valore ti chiedo com'è il vostro coach perché è un po' un mistero per la palacanestra romagnola coach Radulovic si occuperà anche dell'anderio lui è stato intanto un eccellente giocatore all'epoca e poi adesso comunque è un allenatore molto preparato è ovvio che è scuola slava quindi molto preparato meticoloso cerca pian piano di mettere sempre qualcosa in più soprattutto per quanto riguarda la difesa ma anche nel movimento in attacco correggere il tiro e quindi è uno che dà fiducia che fa giocare tanto però sempre dentro degli schemi soprattutto quando hai una squadra di giovani che non puoi giocare soltanto di lettura hai bisogno di centrare in giusti obiettivi e quindi ci sono delle dinamiche da dover seguire e questo ci sta dando dei frutti assolutamente Federico un altro messaggio per Germano Secondo te la mancanza di una nazionale competitiva quanto male fa il movimento basket italiano dopo attiene il 2004 il buio nonostante Gallo Beli eccetera da Luca Altra domanda sui massimi sistemi Sì anche questo è un discorso che magari è molto molto lungo una pillola purtroppo diciamo così i giocatori alcuni ci sono sono anche bravi si conoscono bene sono ragazzi che giocano in NBA un campionato migliore al mondo però questo non vuol dire che dopo la fine siano superiore ad altre squadre abbiamo visto la Slovenia che crescono tantissimi giovani e quindi come ti sembra Donzic è un fenomeno veramente un fenomeno c'è solo 18 anni però comunque è anche lì un altro tipo di scuola lui è giovanissimo già ha cominciato a giocare in campionati importanti aveva responsabilità importanti è stato bravo lui sicuramente ma è stato anche bravo la società a volerlo lanciare o le società o gli allenatori però ci vuole anche uno che ha il talento e la voglia di emergere poi magari qualcuno può venire di più è ovvio che in un campionato italiano come quello dell'A1 è molto più difficile per tante varianti o per tante discussioni insomma o scelte che hanno voluto fare che non stiamo qua a aprirle però è molto più difficile trovare dei giovani o dei ragazzi italiani competitivi come magari c'era l'epoca dove forse in quell'epoca lì c'erano due straniere barra tre prossimo turno in serie D mini derby insomma qua i derby ce ne sono parecchi tra Riccione e Cesena il Bellaria ospiterà Budrio che ha vinto la prima partita quindi altra partita tosta sicuramente ma l'hai detto Germani insomma saranno parecchie le partite competitive in questo tipo di campionato sì sicuramente sicuramente poi è bello anche quello che giochi contro le squadre forti competitive magari con più esperienza rispetto a te e quindi è lì è il bello cercare di vedere se i nostri giovani cominceranno sempre avere un po' più di maturità cestistica grazie anche a noi che magari li aiutiamo cerchiamo di aiutarli di dare dei consigli giusti di dare anche noi una mano importante e così tutti insieme riuscire a trovare dei risultati importanti e magari non si sa mai poi alla fine vedremo dove arriveremo sicuramente abbiamo bisogno voglia e desiderio di arrivare fino in fondo bene così siamo arrivati al termine della nostra mezz'ora dedicata al basket di calcio.basket del lunedì sera vi diamo appuntamento alle prossime puntate naturalmente saluti i nostri ospiti Daniele Bacchi grazie buonasera Andrea Sipala grazie buonasera in buon gruppo naturalmente per tutte le prossime partite Alessandro Ceccoli ciao buonasera a tutti in buon gruppo anche Zermascaoroni per il campionato grazie grazie Federica grazie a te noi vi salutiamo vi diamo appuntamento come già detto la prossima settimana sempre qui su calcio.basket per la versione basket alle 22.30 buonasera a tutti il programma è stato offerto da Francioni Group per la versione per la versione per la versione per la versione